Capitolo dodicesimo. Morte nella brughiera. Per qualche istante rimasi seduto senza fiato, incapace di credere alle mie orecchie. Poi riuscì a riprendermi, riacquistai la voce, ed ebbi la sensazione che di colpo mi avessero tolto dalle spalle un opprimente fardello di responsabilità. Quella voce fredda, incisiva, ironica, poteva appartenere a un solo uomo sulla faccia della terra. Holmes! gridai. Holmes! Venga fuori, rispose lui, e la prego faccia attenzione con quella rivoltella. Uscì, chinando la testa sotto il rudimentale architrave, ed eccolo lì fuori, seduto su una pietra. I suoi occhi grigi luccicarono divertiti appena si posarono sulla mia faccia allebita. Era magro e sciupato, ma lucido e brillante come sempre, il viso aguzzo abbronzato dal sole e provato dal vento. Con il suo completo di tweed e il suo berretto di panno sembrava proprio uno dei tanti turisti che venivano in gita sulla brughiera. Inoltre, con quella pignola cura da gatto per la propria persona, che era una delle sue caratteristiche, era riuscito a escogitare un sistema perché il suo mento fosse perfettamente rasato e la sua biancheria immacolata proprio come in Baker Street. «Non sono mai stato tanto felice di incontrare qualcuno in vita mia!» esclamai, stringendogli calorosamente la mano. «O forse tanto sorpreso». «Beh, devo ammetterlo». «Non è il solo essere sorpreso, gliel'assicuro». Non sospettavo affatto che sarebbe riuscito a scovare questo mio improvvisato nascondiglio. E tantomeno chi vi si trovasse dentro, fin quando non sono arrivato a una ventina di passi dall'entrata. «Le mie impronte, immagino?» «No, Watson. Temo proprio che non sarei in grado di distinguere le sue impronte da tutte le altre impronte di questo mondo. Piuttosto, se vuole trarmi in inganno, deve cambiare tabaccaio. Quando vedo un mozzicone di sigaretta a marca Bradley, Oxford Street, so per certo che il mio amico Watson è nei paraggi. Eccolo ancora lì, lungo il sentiero. Deve averlo gettato via nel momento culminante, quando ha fatto irruzione nella capanna vuota. Proprio così». L'avevo immaginato, e conoscendo la sua ammirevole tenacia, ero certo che lei si fosse posto in agguato con un'arma a portata di mano, in attesa del ritorno del suo ospite. E così ha veramente pensato che fossi io il criminale? Non sapevo di chi si trattasse, ma ero fermamente deciso a scoprirlo. «Eccellente, Watson. E come ha fatto a rintracciarmi? Mi ha forse visto la notte in cui avete dato la caccia all'evaso, quando ho commesso l'imprudenza di fermarmi in controluce, con la luna piena alle spalle?» «Sì, l'ho vista proprio in quell'occasione». E senza dubbio ha passato in rassegna tutte le capanne fino a chi è arrivato a questa. «No, il suo ragazzo era stato avvistato, e questa informazione mi è servita da guida». «Il vecchio col telescopio, naturalmente. Non sono riuscito a capirlo subito, quando ho visto per la prima volta il riverbero della luce sulla lente». Si alzò e diede un'occhiata alla capanna. «Vedo che Cartwright mi ha portato dei rifornimenti. Che cos'è questo foglio?» «Ah, e così è stato a comb, Tracy?» «Sì». «A parlare con la signora Laura Lyons. Proprio così». «Ben fatto. Evidentemente le nostre ricerche si sono svolte lungo linee parallele. Sono sicuro che mettendo insieme i nostri risultati otterremo una discreta cognizione del caso». «Bene. Mi rallegro di tutto cuore che lei sia qui, perché francamente la responsabilità e i misteri cominciavano a mettere a dura prova i miei nervi. Ma mi dica, come diavolo ha fatto ad arrivare fino a qua? E cosa ha fatto tutto questo tempo? Pensavo che fosse rimasto in Baker Street a lavorare a quel caso di ricatto». «È proprio quello che ho voluto farle credere». «Allora lei si serve di me, ma non ha fiducia in me!» esclamai con una certa amarezza. «Pensavo di meritarmi qualcosa di più da lei, Holmes». «Mio caro amico, lei mi è stato di inestimabile aiuto in questo caso, come in molti altri, e la prego di perdonarmi se le ho dato l'impressione di essermi preso gioco di lei. A essere sincero, in parte ho agito così proprio per il suo bene. Mi sono reso conto del pericolo che correva e ho deciso di venire a occuparmi di persona della faccenda. Se fossi rimasto accanto a lei e a Sererri, è chiaro che il mio punto di vista sarebbe stato identico al vostro e la mia presenza avrebbe messo in guardia i nostri implacabili avversari. Così invece ho potuto agire con una libertà di cui, di certo, non avrei potuto godere al castello. Inoltre, restando in ombra, posso tenermi pronto a intervenire senza ostacoli al momento giusto. Ma perché mai tenermi all'oscuro? Perché se lei l'avesse saputo, la cosa non avrebbe potuto comunque esserci d'aiuto, e anzi, forse involontariamente mi avrebbe fatto scoprire. Prima o poi sarebbe venuto da me a comunicarmi qualcosa, oppure premuroso come mi avrebbe portato cibo o altro, correndo un rischio inutile. Ho portato con me Cartwright, se lo ricorda, quel ragazzetto dell'agenzia di recapito o corrispondenza. È stato lui a occuparsi delle mie modeste esigenze. Una pagnotta e una camicia di ricambio. Che cos'altro può desiderare un uomo? Mi ha fornito inoltre di un paio di occhi in più, e di due gambe instancabili, due elementi che sono risultati impagabili. Allora tutti i miei resoconti sono andati sprecati. Mi tremava la voce, al pensiero della fatica che mi erano costati, e di quanto ne andassi fiero. Holmes tirò fuori di tasca un fascio di carte. Eccoli qui, i suoi resoconti, caro amico, consultati con la massima attenzione, glielo assicuro. Avevo dato precise disposizioni. Ne ho ricevuti con un solo giorno di ritardo. Desidero anzi complementarmi con lei, per lo zelo e lacume dimostrati in questo caso di eccezionale difficoltà. Mi sentiva ancora a punto sul vivo per essere stato ingannato, ma il calore con cui Holmes si era congratulato con me mi fece passare in fretta l'arrabbiatura. In cuor mio sentivo inoltre che dopo tutto aveva ragione. Era stato meglio per me ignorare la sua presenza nella brughiera. Così va meglio, commentò Holmes vedendo il mio avviso schiarirsi. E ora mi racconti i risultati della sua visita a Laura Lyons. Mi è stato difficile indovinare che è stato per incontrare lei che si è recato là. Sono già al corrente che la signora è l'unica persona di Com Tracy che possa esserci d'aiuto in questa faccenda. Del resto, se non ci fosse andato lei oggi, è probabile che l'avrei fatto io domani. Il sole era ormai tramontato e il crepuscolo si stava addensando sulla brughiera. L'aria si era rinfrescata ed entrammo nella capanna in cerca di calore. Seduti nella penombra, riferì a Holmes la mia conversazione con la signora. La cosa lo interessò talmente che mi chiese di ripetergli più volte alcuni punti prima di ritenersi pienamente soddisfatto. Tutto ciò è importantissimo, commentò, quando ebbi concluso. Riempie un vuoto che non ero riuscito a colmare in questa faccenda così complicata. Penso che lei sia al corrente della relazione tra questa signora e Steppleton. Non sapevo si trattasse di una relazione. Non c'è dubbio in proposito. Si vedono, si scrivono, se ne intendono. Orbene questo mette nelle nostre mani un'arma molto potente, se solo riuscissi a servirmene per tirare dalla nostra parte sua moglie. Sua moglie? Ora le voglio dare io un'informazione, in cambio di tutte quelle che lei ha dato a me. Una donna che qui fa passare per sua sorella, la signorina Steppleton, è in realtà sua moglie. Santo cielo, Holmes, è sicuro di quello che mi dice? Come avrebbe potuto permettere a Sererri di innamorarsi di lei? L'innamoramento di Sererri non può ricardanno ad altri che a Sererri. Steppleton si è preoccupato unicamente che il baronetto non si spingesse oltre, come lei stesso ha notato. Ripeto che quella donna è una moglie e non una sorella. Ma qual è lo scopo di un inganno così elaborato? Lui aveva previsto che lei gli sarebbe stata più utile nei panni di una donna libera. Tutti i miei istinti fatti tacere, i miei vaghi sospetti, presero a un tratto forma e si riversarono sul naturalista. In quell'uomo scialbo, impassibile, col suo cappello di paglia e retino per le farfalle, mi parve di vedere qualcosa di spaventoso, una creatura infinitamente abile e scaltra, col sorriso sulle labbra e nel cuore l'indole assassina. Allora è lui il nostro nemico, quello che ci ha pedinati a Londra? Direi di sì. Allora l'avvertimento? Deve essere stata lei a mandarlo. Proprio così. Nelle tenebre in cui avevo tanto a lungo brancolato cominciava a delinearsi una macchinazione mostruosa, che riuscivo a malapena immaginare. Ma ne è sicuro, Holmes? Come fa a sapere che quella donna è sua moglie? La prima volta che vi siete incontrati, Stapleton ha commesso l'imprudenza di lasciarsi sfuggire alcuni particolari autentici sulla sua vita. Scommetto che in seguito se ne sarà pentito. È stato veramente insegnante in una scuola del nord dell'Inghilterra. Niente di più facile da rintracciare di un insegnante. Esistono uffici scolastici appositi che permettono di risalire a chiunque abbia esercitato questa professione. Una rapida indagine mi ha rivelato che una scuola era effettivamente caduta in disgrazia in circostanze tragiche e che il suo lettore, naturalmente con un altro nome, era scomparso insieme alla moglie. Le descrizioni coincidevano perfettamente. Quando poi ho saputo che l'uomo in questione era appassionato di entomologia non ho più avuto alcun dubbio. L'oscurità cominciava a dipanarsi, ma molti punti rimanevano avvolti nell'ombra. «Ma se questa signora è veramente sua moglie, che cosa c'entra la signora Lyons?» domandai. Su questo punto ha fatto un po' di luce lei con le sue indagini. Il colloquio con la signora Lyons ha chiarito notevolmente la situazione. Non ero al corrente del fatto che avesse intenzione di divorziare dal marito. In tal caso, ritenendo Steppleton scapolo, sperava senza dubbio di diventare sua moglie. «E quando scoprirà di essere stata ingannata?» «Allora forse la signora potrà esserci di grande aiuto. Il primo passo da fare domani sarà di andare insieme a farle visita. Ora non crede Watson di essersi allontanato anche troppo dal suo protetto. Dovrebbe essere al suo posto, al castello». Le ultime striature di rosso erano svanite all'orizzonte e la notte era scesa sulla brughiera. Qualche timida stella baluginava nel cielo violetto. «Ancora una domanda, Holmes?» chiesi alzandomi. «Tra di noi non occorre certo che ci siano segreti. Che cosa significa tutto questo? Che cosa vuole quest'uomo?» La voce di Holmes si smorzò in un soffio nel rispondermi. «Si tratta di assassino, Watson. Un assassino sofisticato, a sangue freddo, premeditato. Non mi chieda altre particolari. L'ho quasi nella mia rete, benché la sua si stia stringendo inesorabilmente su Sir Harry. Ma grazie al suo aiuto, Watson, l'ho quasi in pugno. C'è solo un pericolo che ci minaccia. Che lui colpisca prima che noi siamo pronti ad agire. Ancora un giorno. Due al massimo. E il quadro sarà completo. Ma fino ad allora dovrà sorvegliare il suo protetto ininterrottamente come farebbe una mamma col figlioletto malato. La sua missione di oggi è ampiamente giustificata. Eppure avrei preferito che lei non si fosse mosso dal suo fianco. Ascolti». Un grido agghiacciante, un urlo prolungato, carico di orrore e di angoscia, squarciò il silenzio della brughiera. Quel suono spaventoso miraggelò il sangue nelle vene. «Oh mio Dio!» balbettai. «Che cos'è? Che cosa significa?» Holmes scattò in piedi e in un attimo vidi la sua sagoma scura, atletica, profilarsi sulla soglia. Le sue spalle erano chinate e la testa protesa in avanti per scrutare nel buio. «Sss!» sussurrò. «Silenzio!» Quel grido ci era sembrato così forte a causa della sua intensità, ma proveniva certamente da un punto lontano, da qualche parte in mezzo a quella distesa oscura. Poi risuonò ancora una volta nelle nostre orecchie, molto più forte, più vicino, più angosciante che mai. «Dov'è?» sussurrò Holmes. Capì dal tremito della sua voce che persino lui, l'uomo dai nervi d'acciaio, era profondamente turbato. «Dov'è, Watson?» «Da quella parte, credo», dissi puntando l'indice nel buio. «No, laggiù!» Ancora una volta quel grido disperato lacerò il silenzio della notte, sempre più forte e sempre più vicino, e a esso si era mescolato ora un rumore nuovo, un brontolio sordo, soffocato, musicale, eppure minaccioso, che saliva e scendeva ritmicamente come il mormorio sommesso e continuo del mare. «Il mastino!» esclamò Holmes. «Presto, Watson, andiamo! Santo cielo, speriamo che non sia troppo tardi!» Cominciò a correre a gran velocità per la brughiera, e io lo seguì immediatamente. Ma ecco che d'un tratto, da un punto indistinto nel terreno, accidentato proprio davanti a noi, si levò un ultimo, supremo grido d'agonia, seguito da un tonfo sordo, pesante. Ci fermammo, con le orecchie tese. Nemmeno un suono ruppe più il silenzio greve di quella notte senza vento. Vidi Holmes portarsi una mano alla fronte, fuori di sé, poi pestò un piede sul suolo. «Ci è abbattuti, Watson. Siamo arrivati troppo tardi!» «No, non può essere!» «Sono stato un pazzo ad esitare. E lei, Watson, ha visto che cosa è successo ad abbandonare il proprio posto. Ma per Dio! Se è accaduto il peggio, noi sapremo come vendicarlo!» Riprendemmo a correre alla cieca nell'oscurità, inciampando tra i massi, aprendoci strada a forza tra i cespugli di ginestre, annaspando su per le colline e precipitandoci giù per i pendii, sempre puntando nella direzione da cui si erano levati quei terrificanti ululati. A ogni altura Holmes si guardava attorno con ansia, ma la brughiera era immersa in una fitta oscurità, e nella sua lugubre distesa non si muoveva una foglia. «Vede nulla?» «No, niente!» «Ascolti, e questo che cos'è?» Un gemito sordo ci era riecheggiato nelle orecchie, ed eccolo risuonare ancora, alla nostra sinistra. Ma da quella parte una catena di rocce culminava in un picco a strapiombo, il quale dava su un pendio disseminato di pietre. Sulla sua superficie irregolare giaceva distesa a una massa oscura, in forme. A mano a mano che ci avvicinavamo, quella sagoma assumeva un contorno sempre più definito. Era un uomo prostrato, disteso sul terreno a faccia in giù, la testa ripiegata in una posizione spaventosamente innaturale, le spalle incurvate, e il corpo rattrappito, come nell'atto di chi stesse per fare una capriola. Era una posa tanto grottesca che sul momento non riuscì neppure a rendermi conto che il gemito che avevamo udito era stato l'ultimo respiro esalato da quell'uomo. Non un fremito, non un sussulto, si levava ora da quella sagoma in forme su cui ci chinammo. Holmes posò la propria mano su di essa, ma la ritrasse subito, lanciando un'esclamazione di orrore. Il bagliore del fiammifero che aveva acceso illuminava le sue dita inzuppate di sangue raggrumato, e la macabra pozza che si andava lentamente allargando attorno al cranio sfracellato della vittima. E a poco a poco la fiammella illuminò anche qualcos'altro, che ci fece balzare il cuore in gola. Quello era il corpo di Sarah R. Baskerville. Nessuno di noi due poteva ingannarsi sul suo inconfandibile completo di tweed color ruggine, lo stesso che indossava la mattina del nostro primo incontro in Baker Street. Una sola occhiata l'aveva rivelato chiaramente, poi la fiamma del fiammifero cominciò a tremolare, e con essa si spense anche l'ultima speranza che avevamo nel cuore. Holmes si lasciò sfuggire a un gemito, e nell'oscurità spiccò il suo volto cadaverico. «Maledetto! Maledetto!» urlai stringendo i pugni. «Oh Holmes, non mi perdonerò mai di averlo abbandonato a quell'infame destino!» Io sono da biasimare, assai più di lei, Watson. Pur di avere la situazione sotto controllo in ogni minimo particolare, ho sacrificato la vita del mio cliente. È il peggior fallimento della mia carriera. Ma come? Come potevo immaginare che avrebbe rischiato la vita andandosene in giro da solo per la brughiera, a dispetto di tutte le mie raccomandazioni? E pensare che abbiamo sentito le sue grida. Mio Dio, quelle grida! Eppure non siamo riusciti a salvarlo. Dove si nasconde quel maledetto cane che ha provocato la sua morte? Forse proprio in questo momento se ne sta appiattito tra queste rocce. E Steppleton dovrà rispondere delle sue azioni. Lo farà. Me ne occuperò personalmente. Zio e nipote sono stati assassinati. L'uno spaventato a morte alla sola vista di un animale che credeva essere soprannaturale. L'altro condotto a una tragica fine nella sua corsa disperata per sfuggirgli. Ma ora dobbiamo provare che esiste un legame tra l'uomo e l'animale. A parte quello che abbiamo udito personalmente, non abbiamo nessun indizio dell'effettiva esistenza di quest'ultimo, dal momento che Sererri è evidentemente morto in seguito alla caduta. Ma per Dio, per quanto sia furbo quell'individuo, sarà nelle mie mani nel giro di ventiquattro ore al massimo. Restammo lì, accanto a quel corpo straziato, col cuore gonfio di dolore, sconvolti da quelle improvvise e irrevocabile sciagura che aveva messo così miseramente e bruscamente fine alle nostre lunghe e pazienti fatiche. Quando si levò la luna, ci inerpicammo sulla cima delle rocce, dalle quali era precipitato il nostro povero amico, e da quella altura contemplammo la brughiera misteriosa, permentà argentata dalla luna, per metà immersa nelle tenebre. Lontano, a qualche chilometro di distanza in direzione di Grimpen, brillava un'unica luce isolata, giallastra. Non poteva che provenire dalla casa degli Stapleton. Lanciando un'amara imprecazione, scossi il pugno in quella direzione. Perché non lo acciuffiamo subito? Perché il nostro quadro non è ancora completo. Ci troviamo di fronte a un individuo dotato di un'astuzia e di una furbizia fuori dal comune. Non è quello che sappiamo che conta, ma quello che possiamo essere in grado di provare. Basta una sola mossa falsa, perché ci sfugga un'altra volta. E allora come possiamo muoverci? Avremo molto da fare domani. Stasera non ci resta che rendere gli ultimi servigi al nostro povero amico. Insieme tornammo giù, per il pendio, e ci accostammo al cadavere, nitido ora, nella sua massa oscura, contro le pietre argentate. L'agonia di quelle membra contorte mi attanagliò al cuore e mi offuscò gli occhi di lacrime. Dobbiamo chiamare aiuto, Holmes. Non possiamo trasportarlo da soli fino al castello. Santo cielo, ma è impazzito! Aveva lanciato un grido e si era chinato sul cadavere. Ora ballava, rideva e mi scuoteva forte la mano. Era mai possibile che quello fosse il mio severo amico, sempre così controllato e padrone di sé? C'era davvero un fuoco nascosto in lui? La barba! La barba! Quest'uomo ha la barba! La barba? Non è il baronetto. Ma sì, è il mio vicino, l'evaso! Con ansia febbrile rivoltammo il corpo e una barba incolta spiccò sulla luce fredda e nitida della luna. Non c'erano dubbi. Quella fronte sporgente, quegli occhi infossati, animaleschi. Era la stessa faccia che mi aveva fissato sinistra alla luce della candela incastrata tra le rocce. era la faccia di Selden, il criminale. In un attimo mi fu tutto chiaro. Mi ricordai che il baronetto mi aveva detto di aver regalato a Barrymore il suo guardaroba smesso. Barrymore, a sua volta, doveva averne passato una parte a Selden per aiutarlo a fuggire. Scarpe, camicia, cappello. Tutto apparteneva a Sererri. Era pur sempre una tragedia, ma quest'uomo perlomeno era stato condannato a morte dalle leggi del suo paese. Spiegai a Holmes come stavano le cose, col cuore che traboccava di gratitudine e di gioia. Allora sono stati vestiti a decretare la morte di questo povero diavolo, osservò. Evidentemente avevano fatto annusare al cane un indumento di Sererri. Con ogni probabilità la scarpa sottratta in albergo e lui ha assalito quest'uomo. C'è una cosa però che mi lascia perplesso. Come ha fatto Selden al buio ad accorgersi che il cane era sulle sue tracce? L'avrà sentito? Non credo che sentire un cane che latra nella brughiera basti a terrorizzare un uomo dalla scorza dura come la sua, portandola a un tale parossismo di terrore da correre il rischio di essere catturato, urlando come un pazzo in cerca di aiuto. A giudicare dalle grida che abbiamo udito deve aver corso parecchio dopo essersi accorto che l'animale gli era le calcagna. Come poteva saperlo? Per me il mistero più grande è piuttosto come mai questo cane, dando per scontato che le nostre congetture siano esatte. Io non do proprio nulla per scontato. Va bene, allora come mai questo cane era stato sciolto proprio questa sera? Non credo che scorrazi sempre in giro per la ghiera liberamente. Stapleton non avrebbe avuto motivo di sguinzagliarlo, a meno che non avesse ragione di credere che Sererri fosse nei pressi. Il mio interrogativo rimane il più arduo da risolvere. Penso che mentre il suo troverà molto presto una spiegazione, il mio rimarrà per sempre un mistero. Il punto ora è che cosa dobbiamo fare del cadavere di questo povero disgraziato? Non possiamo lasciarlo qui in pasto alle volpi e ai corvi. Direi di metterlo in una delle capanne e lasciarlo lì fino a che non ci saremo messi in contatto con la polizia. Giusto, sicuramente riusciremo a portarlo fin lì. Ehi Watson, ascolti. Chi può essere? È lui in persona, incredibile. Che faccia tosta. Non una parola che tradisca i nostri sospetti, mi raccomando. Non una parola o il mio piano andrà in fumo. Qualcuno, infatti, si stava avvicinando attraverso la brughiera e nell'oscurità scorsi il bagliore di un sigaro. La luna lo illuminò e riuscì a distinguere la sagoma snella e l'andatura vivace del naturalista. Quando ci vide, si fermò di colpo. Poi proseguì. Dottor Watson, è proprio lei? È l'ultima persona che mi sarei aspettato di trovare nella brughiera a quest'ora della notte. Oh santo cielo, che cosa è successo? Qualcuno si è fatto male? No, non mi dica che si tratta del nostro Sererri. Mi oltrepassò di corsa e si chinò sul cadavere. Di colpo gli si mozzò il fiato e gli cadde il sigaro dalle dita. E questo chi è? Balbettò. È Selden, l'evaso da Princeton. Steppleton diventò bianco come un cadavere, ma poi, con uno sforzo supremo, riuscì a dissimulare il suo stupore e la sua delusione. Ci fissò con uno sguardo truce. Prima Holmes, poi me. Santo cielo, è spaventoso. Com'è morto? Deve essersi spezzato l'osso del collo cadendo da quelle rocce. Io e il mio amico stavamo passeggiando per la brughiera, quando abbiamo sentito un grido. Anch'io l'ho sentito, ecco perché sono corso fuori. Ero preoccupato per Sererri. Perché proprio per Sererri? Non riuscì a trattenermi dal chiedergli. Perché l'avevo invitato a casa mia. Non vedendolo arrivare sono rimasto sorpreso e naturalmente mi sono preoccupato per la sua incolumità quando ho sentito delle grida nella brughiera. A proposito, i suoi occhi saettarono nuovamente da me a Holmes. Non avete sentito nient'altro oltre le grida? No, rispose Holmes. E lei? No. Che cosa intende dire? Oh, sa, quelle storie che raccontano i contadini di questo fantomatico mastino. Dicono che lo si senta di notte nella brughiera. Mi chiedevo se aveste sentito qualcosa del genere stanotte. Non abbiamo sentito niente del genere, risposi io. E qual è la sua teoria riguardo alla morte di questo poveraccio? Senza dubbio le privazioni e l'angoscia di essere scoperto l'hanno fatto uscire di senno. È corso per la prughiera in preda alla follia e alla fine è caduto e si è spezzato l'osso del collo. Mi sembra un'ipotesi più che ragionevole, disse Stapleton. Mi si lasciò scappare un sospiro, che a me parve di sollievo. E lei cosa ne pensa, signor Sherlock Holmes? Il mio amico chinò cerimoniosamente il capo. Lei è molto rapido nell'identificare le persone, commentò. Da queste parti la stiamo aspettando sin da quando è arrivato il dottor Watson. È giunto appena in tempo per assistere a una tragedia. Già, mi sembra proprio che la spiegazione del mio amico chiarisca l'accaduto, ma tornando a Londra domani porterò con me un ricordo assai spiacevole. Ah, riparte già domani? Questa è la mia intenzione. Spero che la sua visita abbia fatto un po' di luce su tutti i nostri enigmi. Holmes scrollò alle spalle. Non sempre si ottiene il successo sperato. Un investigatore ha bisogno di fatti e non di leggende o di voci. No, non è stato decisamente un caso soddisfacente. Il mio amico parlava con franchezza e non curanza. Stapleton continuava a fissarlo col suo sguardo penetrante. Poi si rivolse a me. Vi direi di portare a casa mia il corpo di questo poveraccio, ma mia sorella si spaventerebbe a morte e non mi pare opportuno. Copriamogli il viso e aspettiamo fino a domattina. E così facemmo. Dopo aver rifiutato l'invito di Stapleton, io e Holmes ci incamminammo verso il castello, mentre lui se ne tornava a casa da solo. Voltandoci, riuscimmo a vedere una sua sagoma muoversi lentamente nell'immensità della brughiera, mentre dietro di lui spiccava quella massa scura sul pendio inargentato dalla luna, che indicava il punto dove giaceva l'uomo che aveva trovato una morte tanto orribile. L'abbiamo quasi in pugno, finalmente, esclamò Holmes mentre camminavamo nella brughiera. Che nervi saldi. È riuscito a riprendersi benissimo dopo quello che deve essere stato per lui un colpo paralizzante, quando ha scoperto che a rimanere vittima del suo complotto era stato l'uomo sbagliato. Glielo ho già detto a Londra, Watson, e torno a ripeterglielo ora. Non abbiamo mai avuto un avversario tanto degno di noi. Mi spiace che l'abbia vista. Sul momento è spiaciuto anche a me, ma non c'erano alternative. Che effetto pensa che avrà sui piani di Stapleton la sua presenza qui? Forse lo indurrà a essere più prudente, ma potrebbe anche spingerlo quanto prima a misure drastiche. Come la maggior parte dei criminali intelligenti forse confida troppo nelle proprie abilità e pensa di averci portato completamente fuori strada. Perché non l'arrestiamo subito? Mio caro Watson, lei è nato per essere un uomo d'azione. Il suo istinto la spinge sempre ad agire, ma supponiamo per assurdo che lo facessimo arrestare stasera. Che cosa ci guadagneremmo? Non abbiamo prove contro di lui. Questo dimostra che ne sa una più del diavolo. Se agisse per mezzo di un emissario umano potremmo ottenere delle prove. Ma se anche riuscissimo a portare questo cagnaccio alla luce del giorno, questo non ci aiuterebbe affatto a mettere una corda intorno al collo del suo padrone. Ma ci sono delle accuse ben precise. Neanche l'ombra. Solo ipotesi e congetture. Belle risate si farebbero se andassimo in tribunale a raccontare una storia del genere. Ma c'è la morte di Sir Charles. Trovato morto senza neanche un graffio. Io e lei sappiamo che è morto per lo spavento e sappiamo anche che cosa è stato a spaventarlo. Ma come possiamo convincere di ciò 12 impassibili giurati? Dove sono le impronte del mastino e i segni dei denti? Sappiamo bene che un cane non assalirebbe un morto e che Sir Charles è deceduto prima che l'animale lo azzannasse. Ma dobbiamo provarlo e per ora non siamo in grado di farlo. E quello che è successo stasera? Stasera non abbiamo fatto alcun passo avanti. Anche stavolta non c'è alcun nesso tra il cane e la morte di quell'uomo. Non abbiamo visto nessun cane. L'abbiamo sentito, questo sì, ma non possiamo provare che corresse sulle sue tracce. E c'è un'assoluta mancanza di movente. No, caro amico, dobbiamo metterci il cuore in pace. Ora come ora non possiamo formulare alcuna accusa. E vale la pena correre qualsiasi rischio per trovarne una. Che cosa propone di fare? Confido molto in quello che ci dirà la signora Lyons quando le avremo detto come stanno le cose. Inoltre ho anche io un mio piano. Quello che ci aspetta domani è più che sufficiente. Spero che tutto si concluda prima di sera. Non riuscì a cavargli di bocca nient'altro e lui proseguì in silenzio, assorto nei suoi pensieri, finché arrivammo al cancello. Sale? Sì, non vedo la ragione di continuare a rimanere nascosto. Un'ultima cosa, Watson. Non dica nulla del cane a Sererri. Lasciamogli pensare che Selden sia morto proprio come Steppleton vuole che si creda. Dovrà mantenere i nervi ben saldi per la prova che lo attende. Domani, se non ricordo male, è invitato a cena dagli Steppleton. Sono invitato anch'io. Lei si inventerà una scusa. Sererri deve andarci da solo. Ma questo non sarà un problema. E ora, visto che per la cena è ormai tardi, spero davvero che non sarà troppo tardi almeno per uno spuntino. Bentornati su Narrazioni senza importanza. Un altro bel capitolo, bello emozionante. Finalmente ritorna Holmes, che non è mai andato via, in realtà è sempre stato lì nell'ombra a tenere sotto controllo la situazione. Riappare questo misterioso, imprendibile mastino che commette un altro omicidio. Per fortuna, o sfortuna, insomma, per Selden non ha i danni di Sererri. E scopriamo chi è l'artefice, il diabolico artefice di questo piano. Ma quali sono le sue motivazioni? Come sta manovrando questo mastino? Dov'è questo mastino? Quali sono i suoi moventi, insomma? Perché Stapleton è il responsabile? Un cattivo veramente viscido, serpentino, che riesce a sfuggire addirittura a qualsiasi tentativo di essere incastrato. Ma vedremo come andrà avanti il libro, come si concluderà. Quindi sono convinta che la prossima settimana, andando sempre più vicini al finale, sarete in mia compagnia. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui. Se volete sostenermi, potete iscrivervi al canale, mettere un like, un commento, condividere il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram, narrazioni senza importanza. E come sempre vi aspetto al prossimo capitolo. Alla prossima!